Nelle autocertificazioni presentate ai comuni per poter ottenere l'assegno alimentare hanno dichiarato di essere indigenti e per giunta di essere indigenti in tempi di coronavirus. Tutto falso, i 700 soggetti sanzionati dalla Guardia di Finanza di Napoli avevano stipendi e pensioni o godevano di altre prestazioni sociali, dunque mancavano del requisito principale per poter accedere al bonus erogato dal governo. Dai controlli delle fiamme gialle è emerso che i membri dello stesso nucleo familiare percepivano stipendi e pensioni, in alcuni casi l'indennità di disoccupazione e il reddito di cittadinanza, in altri casi hanno alterato lo stato di famiglia aggiungendo persone per veder gonfiare l'assegno indicando soggetti inesistenti o non residenti. Tanti i casi finite nelle maglie della Guardia di Finanza come quello dei coniugi che hanno richiesto entrambi il bonus ma per lo stesso nucleo familiare a soggetti che già percepivano l'assegno di mantenimento per separazione a titolari di partita IVA e persino a congiunti di esponenti della criminalità organizzata. Nella maggior parte dei casi è emerso che i nuclei familiari monitorati hanno indicato un ISEE con valore inferiore a quello previsto. Nel complesso sono state irrogate sanzioni amministrative per indebita percezione di erogazioni pubbliche per oltre 250 mila euro e sono stati segnalati trasgressori agli enti comunali al fine di riavviare il recupero delle somme. Sull'indagine della finanza il magistrato Antica Morra Catello Maresca interviene e dice non condivido la scelta di gestire l'emergenza senza alcun controllo preventivo perché il rischio che i fondi stanziati dallo Stato per le persone più deboli vadano a finire nelle mani sbagliate.